Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per il famoso giornalista italiano, la drammatica notizia è arrivata pochi minuti fa, tutti sotto shock. Era famosissimo, uno dei conduttori più famosi di La Sette. Ma di chi stiamo parlando? È morto all'età di 70 anni Armando Sommaiuolo, giornalista che è stato per molti anni tra i più noti conduttori del telegiornale di La Sette, diretto da Enrico Mintana. Sommaiuolo era nato a Roma e aveva cominciato a lavorare nella televisione locale Teletevere, e nel 1998 era passato a TMC, che nel 2001 era diventata La Sette. Si era occupato a lungo di esteri, lavorando come inviato in diverse zone di guerra in tutto il mondo. Nel 2010, con l'arrivo di Mintana alla direzione, gli era stata prima affidata la conduzione del programma di approfondimento Life, e poi dal 2011 aveva inizialmente condotto l'edizione delle 13.30 del telegiornale. Poi si era alternato a Mintana stesso e a Gaia Tortora nella conduzione dell'edizione delle 20. Era andato in pensione nel 2015.